La specie si chiama Delfino Comune, ma a differenza di ciò che farebbe supporre il nome, sono tra i cetacei più rari da avvistare in Adriatico. Il video, girato dal nostro amico telespettatore Marco Lazzari, dalla sua barca sulle rive di Trieste a largo della stazione marittima, assume dunque un'importante valenza scientifica. Normalmente siamo abituati a commentare immagini del più classico Tursiope, per i più il flipper della nota serie televisiva, livrea grigia, linea più tozza e nessun particolare cromatismo sulla livrea. Il Delfino Comune invece, come svelato da questi due fermi immagini, ha queste striature bianche, definite a clessidra dagli esperti, che a un'occhiata più attenta permettono di rendersi conto della specie. In questo caso si tratta di una coppia, ma non è detto che si tratti necessariamente di maschio e femmina, ci ha spiegato Saul Ciriaco, biologo della riserva marina di Miramare. Gli ultimi rari avvistamenti della specie sono stati fatti dall'equipe slovena di Morigenos, che lavora sul comportamento dei delfini che si aggirano a largo delle acque di Pirano. Anche qui normalmente Tursiope, ma poco tempo fa i ricercatori si erano imbattuti proprio in alcuni esemplari di Delfino Comune in Golfo. Pensate che la specie era così rara in passato che negli anni 70 era stata addirittura considerata estinta dall'Adriatico. Considerazioni scientifiche a parte, non possiamo che, romanticamente, sperare che si tratti di una coppia innamorata che possa dare linfa alla specie con qualche nuovo nato.